Gente buongiorno, sabato 2 giugno, sono di nuovo nei castagni come potete vedere perché non mi va giù il fatto di non trovarne in boschi del genere visto che sono riusciti a fare anche il governo, vediamo se riesco almeno a trovare i funghi di castagno quindi proviamole, andiamo! Allora, 5 minuti che sono nel bosco, è arrivato il primo, quindi mi sono tolto il cappotto dai castagni ve lo faccio vedere subito, carino, piccolo ma carino guardate un po', eccolo qua lo togliamo, è il gambetto che è veramente esile ma è un bel porcino d'estate Allora gente, qua vi faccio vedere dei galletti, finalmente era un po' che non li trovavo e li raccogliamo, sono molto buoni ci sono, questi che sono come i galletti ufficiali, con le lamelle, se metto a fuoco ma non ce la farà mai e poi ci sono anche quelli puntinati, questi sono sicuramente più buoni era un po' che non li trovavo, di solito sono di colore molto più giallo, però sono loro, profumo buonissimo Allora gente, porcini al momento basta, però ho trovato il fungo più pericoloso di tutti e ve lo faccio vedere subito questo qua, è il fungo f***o, capito? qua, ditemi se è possibile che io tutte le volte che vengo per funghi, raccolgo più spazzatura piuttosto che funghi Allora, dopo il fungo ho detto vado via, questa era la mia parola magica nel senso che tutte le volte che dico me ne vado trovo un fungo che mi dice aspetta, non andare e mi fa parlare del team bello, ve lo faccio vedere, ci sono passato a fianco, non l'ho visto l'oltrepassato mi sono girato per vedere chissà cosa e l'ho visto all'aristante, eccolo qua guardate, bello così, a fianco al riccio è uno spettacolo piccolino, ma bello nel muschio trovare questi è sempre spettacolare e ora lo puliamo allora ragazzi, ho girato ancora un po' ma non ho più trovato niente, ho cambiato bosco sono sempre su castagno misto faggio ma più castagno e mi sono alzato un po' come altitudine ma non di tantissimo entrato nel bosco ne ho trovato subito uno ma è piccolo quindi penso di lasciarlo sperando di trovare magari quelli più grossi guardate guardateli in proporzione al mio dito io questi di solito li lascio allora gente, vado via vado via, la giornata la concludo qua ho trovato solo quei due funghi lì più quei due galletti ho trovato altri due mi sembra e niente la situazione qua non si sblocca nel senso che inizia a lasciarne i castagni ma non ha fatto la bullata esagerata che almeno io mi aspettavo comunque se il video vi è piaciuto solito like chiedetemi nei commenti qualsiasi tipo di cosa e ci vediamo al prossimo video sperando che il raccolto sia migliore PEACE